Un violento incendio scaturito da un probabile cortocircuito all'impianto fotovoltaico del tetto è interessato nella serata di mercoledì 2 ottobre un cappannone industriale a Fluminiano in comune di Talmassons. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco partite dal comando provinciale di Udine e dal vicino distaccamento di Codroipo. Per fortuna all'interno dello stabilimento non vi erano persone. Estinte le fiamme i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza della struttura. È stata effettuata anche l'evacuazione forzata dei fumi presenti all'interno. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate poco prima dell'alba.